Giornata movimentata, quella di ieri per le forze dell'ordine aquilane. Un mendicante bulgaro ha aggredito due persone prendendo a morsi un poliziotto. Il fatto è accaduto all'esterno di un noto supermercato aquilano. L'uomo un trentenne stava chiedendo l'elemosina con dei connazionali quando ha avuto un diverbio con un passante. Prima lo ha preso a pugni e poi ha aggredito una ragazza dipendente della banca lì vicino. È andata male anche al poliziotto intervenuto per sedare la lite, preso a morsi dal bulgaro. Anche a Monte Reale, comune dell'Aquila, ha tanto lavoro per i carabinieri. Un uomo ha aggredito infatti con un coltello un imprenditore zootecnico della zona con il quale c'erano vecchi rancori, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, a casa di un terreno confinante. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni e minacce aggravate. Fortunatamente le lesioni per la vittima non sono gravi. Nei confronti dell'anziano, già noto ai militari per piccoli pregiudizi di polizia, dopo una notte passata in una stanza di sicurezza della stazione dell'Aquila, il magistrato ha convalidato l'arresto rimettendolo in libertà. La cosa poteva però sfociare in tragedia. L'anziano, dopo lo scontro verbale, è passato alle vie di fatto con il coltello, l'aggredito. Dapprima non credeva che sarebbe stato colpito, ma quando lo ha visto scagliarsi contro ha cercato di difendersi. Nella collutazione è caduto a terra, sferrando calci contro l'aggressore, ma rimediando un colpo alla gamba, riuscendo comunque a divincolarsi. A quel punto l'aggressore si è allontanato, il ferito è riuscito ad arrivare da solo al distretto sanitario di Monte Reale, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi. Durante il tragitto ha avvisato i carabinieri della stazione locale, che prima si sono sincerati delle sue condizioni di salute. Ascoltata poi la sua testimonianza, sono andati a casa dell'anziano, che ha collaborato ammettendo responsabilità e consegnando il coltello con cui aveva colpito l'antagonista, anche per i buoni rapporti che ha con i militari di Monte Reale, guidati dal comandante di Falco.